Sì figliolo, c'è sempre il rischio di una scelgia in un occhio scelgia, di legno dentro l'osso e di cocco bollo. Credevo di avere ancora una scelgia nella schiena. Ecco, ecco, era solo una scelgia in minuscola. No, ti stava minuscolando. Certo, vedrà. Quelli erano di una fazione del scendevro luminoso. Sì, sono una fazione della cellulare di Ascaba Adb capeggiata di Katab Munchahain. Ha formato la sua fazione chiamata. La formica è formicchiere. Aspetta qui, adesso chiedo dove formicchiere la formica. Pronto? Come state? Bene, al... bene, allo grande. Misericordia. 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 Misericordia.